Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred e bentornati anche oggi nella mia cantina. Quest'oggi niente progetto. Oggi sono qui per ringraziarvi tutti i 2000, ebbene sì, abbiamo raggiunto i 2000 iscritti. Grazie davvero di cuore a tutti quanti, mai mi sarei aspettato un tale riscontro in nemmeno un anno dall'apertura del canale. Sono circa 11 mesi che ho aperto Alfred e fai da te, e all'inizio mi immaginavo tipo, ma sì, 200-300 iscritti in un anno riuscirò a raggiungerli, magari facendo qualche progettino interessante. Invece siete riusciti a stupirmi davvero da rimanere a bocca aperta. Grazie infinite per la fiducia che riponete in me iscrivendovi al canale e continuando a mettere mi piace, a commentare, o anche a fare delle critiche costruttive. Sono sempre bene accetto, le apprezzo sempre, perché il mio obiettivo principale è il confronto, per migliorare tutti insieme e per fare qualcosa di interessante e intelligente tutti insieme. Oltre agli ringraziamenti, devo chiedere un ulteriore concetto, perché ho visto che non è molto chiaro a tutti. Sto facendo dei video in inglese, tradotti in inglese. Questi video non prenderanno mai il posto dei video italiani che caricherò sempre sul canale e a cui darò sempre la priorità. Perché il mio pubblico principale, diciamo, è un pubblico italiano, perché il mio inglese è anche abbastanza scarso. Uno dei motivi per cui ho cominciato a farlo, infatti, è anche per migliorare il mio parlato in inglese. Accrescere le proprie conoscenze anche nella vita personale è qualcosa di utile, per cui il canale e YouTube per cui possano darmi una mano. Per cui ho detto, perché no, proviamo a fare questa cosa. Ho visto che qualcuno ci è rimasto male, sono un po' dispiaciuto, però sappiate che continuerò a caricare i video in italiano regolarmente e soprattutto prima di quelli in inglese. Quelli in inglese saranno una sorta di replica, come ha detto qualcuno. Invece, come feci per i 1000 iscritti la scorsa volta, neanche tanto tempo fa, quest'oggi mi rendo ridicolo davanti a voi. Così per il divertimento di tutti quanti e anche per staccare un po' dai soliti video di taglia, incolla, martella, vita, fai e dispa. Speriamo che vi diverta questo breve video che ho messo insieme con qualche, diciamo, stupidata che ho fatto davanti alla telecamera e poi ho tagliato nei video perché sarebbe stata inutile. Quindi ragazzi prendetevi una bella birretta e un bel pacchetto di patatine e godetevi il video. Stai girando? Togliti dal tavolo che gira. Ordi. Bentornati nella mia cantina. Sto telefono. Oppure via mail all'indirizzo... Eh, non lo so, niente. Ragazzi, il video è davvero giunto alla conclusione. Per vedere a cosa può servire questo pezzo di coso, non mi vengono le cose dette in questa maniera. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. La tinta che abbiamo visto prima era una tinta piuttosto per... Era una tinta per ricreare mobili... Ci consente di giuntare due pannelli facendoli di maniere. Dio? No, non lo so. E chiamarmi di maniere. Comunque il tagliere funziona bene. Pure buono sul salame. Io vi lascio con... E di là. Cristo. Sono di qua e di qua. Guardate anche voi dopo la fine del video... Che è un messaggio promozionale. Il video di oggi è tutta la conclusione. Amore, guardami se c'è sul microfono per piacere che non lo so. Non lo faccio, è vero? Sì. Sì. Aspetta. E ho dimenticato le bretelle. Pasco. Che c***o. Ci posso stupare. Non camminare. Anche di gualdane... E andiamo a stenderlo e dovremmo osservare che si scompone intanto che lo stendiamo. E invece no. E come sempre, alla prossima! Sempre fascista. Di mettere like. Non spesso! Diciamo elementi da cucina. Tu! La finitura è stata data con quest'olio per taglieri e... I rutti! Non registrate mai dopo mangiato. Mai! È una cosa terribile! La finitura l'ho data con quest'olio... Riproviamo. La finitura... Come sempre... Non c'è un modo di dirlo bene... Devo studiarmela sta cosa... Spero che vi siano utili i miei video. Perfetto ragazzi! Perfetto ragazzi! Anche il video... Diciamo... E anche chi non si è ancora iscritto... Ma seguo i miei video. Grazie di cuore a tutti quanti. E come sempre... Alla prossima!